Ben ritrovati dalla redazione. La prima allerta meteo dell'anno è stata diffusa nel pomeriggio di ieri dalla protezione civile regionale di colore giallo. L'allerta è valida dalla mezzanotte di oggi alle 12 di domani domenica per criticità idrogeologica sul Friuli Venezia Giulia, escludendo la provincia di Trieste dove però a partire da questa sera si alzerà la bora. Uno scuterista è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Opicina lungo strada per Vienna sul posti sanitari del 118 con automedica e ambulanza che hanno tentato di rianimare l'uomo senza fortuna. La persona era in sella ad un mezzo a due ruote quando per cause al vaglio delle forze dell'Odine ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. Il conducente è stato sbalzato per una quindicina di metri troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Ezechiele Mendoza Gutierrez di 31 anni ucciso a Udine la mattina di Capodanno è morto a causa della rescissione netta della carotide e della giugolare con un'arma bianca atipica che gli ha traversato il collo. E' quanto emerso dall'autopsia eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli alla presenza dei periti nominati dalla famiglia, della vittima e di quelli dell'indagato. Reo confesso il cittadino domenicano Anderson Vasquez Dipres di 34 anni. A quanto si è preso si aprirà ora una battaglia di perizie perché le risultanze di due aspetti di parte sono divergenti. Per quello della famiglia e della vittima quanto emerso dall'esame collide con le dichiarazioni dell'indagato. Egli ha sostenuto di aver inferto un solo colpo e una sorta di movimento difensivo di fronte all'avvicinarsi minaccioso di Ezechiele Mendoza Gutierrez che il bicchiere che teneva in mano si sarebbe rotto accidentalmente nell'impatto. La corsa della Bora batte il record di iscrizioni oltre 2200 e si prepara la giornata clou con l'incognita maltempo. Secondo il bollettino medico è una corsa dello scirocco più che una corsa della Bora con possibili precipitazioni lungo tutta la giornata. Una pioggia che è arrivata proprio nella giornata decisiva. Saranno infatti ben sei le partenze in programma tra il Carso e il centro di Trieste per quello che negli anni si è affermato come l'evento chiave del trail running invernale. In Italia, viste le condizioni atmosferiche, l'organizzazione dell'ASD Sentiero 1 raccomanda ai partecipanti dell'ASD Sentiero 1 la non competitiva da 13 km di portare un abbigliamento adeguato. E allora diamo un'occhiata alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo coperto con precipitazioni intense, piogge che saranno più moderate nella zona di Trieste, localmente molto intense tra Alta Pianura e Prealpi. Possibile qualche rovescio temporale, la quota a neve inizialmente di 1.100-1.300 metri sulle Alpi, 1.300-1.600 metri sulle Prealpi. In giornata neve fino a circa 900.000 metri sulle Alpi e fino a Fondovalle nel Tervisiano nel pomeriggio, fino a 1.200-1.400 metri sulle Prealpi. In quota possibili intense nevicate, venti moderati da sud-est sulla costa, da nord-est in pianura, bora sostenuta dalla sera a Trieste. Temperature minime in pianura fra 8 e 10, le massime fra 10 e 12 gradi, sulla costa minime fra 10 e 12 e le massime fra 12 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. A più tardi.